Un simulatore di terremoti, mappe di irradianza solare, accumulazione delle acque meteoriche, mappe interattive del territorio ad alta risoluzione oltre ad approfondimenti su diversi ambiti come lo sviluppo economico del cratere sismico e il portale Open Data L'Aquila che rappresenta un'evoluzione di Open Data Ricostruzione, progetto lanciato dal Gran Sasso Science Institute nel dicembre 2016 e relativo ai dati della ricostruzione post-sisma 2009. Open Data L'Aquila è realizzato dal Gran Sasso Science Institute in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Comune dell'Aquila, gli uffici speciali per la ricostruzione, la Fondazione Open Police ed Action Aid. La conoscenza e la condivisione delle informazioni faciliteranno le amministrazioni di cittadini nelle perfezionali le politiche pubbliche e i comportamenti in fatto di prevenzione e mitigazione del rischio per una maggiore sostenibilità energetica, per il miglioramento dei servizi pubblici e la crescita dell'economia territoriale. Questo è un protocollo importante perché le tematiche al centro sono prima di tutto la trasparenza e quindi la possibilità di dare ai cittadini la possibilità di accedere a questi dati che sono dati importantissimi e in secondo luogo la sinergia. Oggi la possibilità di arricchire il portale è riservata ad enti e amministrazioni ma in futuro la piattaforma sarà aperta anche ai singoli cittadini.